di nuovo bentornati in onda eccoci qui ci siamo lasciati prima del tg social un saluto e un grazie alla redazione che ci informa 17 30 in diretta martina e adesso è arrivato quel momento del venerdì quello di assaporare tutti i film che sono su roma e anche al cinema ovviamente per scoprire cosa fare nel weekend grazie ai consigli di giovanna del vino con restate al cinema ma prima la sigla vediamola eccoci buon pomeriggio giovanna ben ritrovata ciao giovanna ciao ragazzi che bello essere di nuovo qui come è andata la settimana molto bene molto bene anche se devo dire la verità preferisco il weekend in generale non soltanto per le proiezioni ma perché a roma fa caldo quindi spostarsi durante il giorno è terribile io voglio solo andare al mare invece il fine settimanuel ti porta qui a cusano italia tv e anche un po di aria fresca si va al mare ci sono appunto i film e soprattutto ci sono le arene c'è il cinema sotto le stelle esatto esatto quindi da dove partiamo oggi per i tuoi consigli allora oggi devo assolutamente iniziare parlando di cinema revolution che questa iniziativa che in molti già conoscono ed è l'iniziativa promossa da anica anek e mic che appunto è anche in collaborazione con davidi donatello e quindi con l'accademia del cinema italiano per cui ci sono i film italiani europei e prodotti in uk perché non è più in europa ma insomma è considerata all'interno della promozione a 3 euro e 50 mentre per tutta l'estate fino a settembre tutti gli altri film quindi quelli fuori dell'unione europea sono a 5 euro e la grafica con cui vi comunico questa questa incredibile rivoluzione perché viene viene chiamata proprio cinema revolution con questo sottotitolo che spettacolo l'estate quindi con questi finanziamenti che poi vedremo sono stati elargiti appositamente per poter godere al meglio il cinema d'estate e poi a settembre ci sarà una settimana in cui saranno addirittura tutti a 3 euro e 50 la grafica con cui ve la mostravo è la grafica che si è inventata che si è inventata l'iniziativa cine village di piazza vittorio questa iniziativa è una vera e propria arena però a pagamento che appunto cerca di informare tutti i suoi utenti di questa di questa incredibile rivoluzione estiva che cosa ci offre per questo weekend quindi il cine village di piazza vittorio allora è un weekend molto particolare domani per esempio voi sapete che l'avevo parlato l'altra volta lo ridico cine village di piazza vittorio è una iniziativa che va a riscoprire i film che durante l'anno sono stati un successo e vogliono insomma riproporli e magari non li abbiamo visti e quindi c'è una nuova opportunità una nuova opportunità se vogliamo una seconda vita dei capi con cui siamo partiti esatto oggi è tutto su una seconda possibilità questa circolarità che tanto ci piace quindi seconda possibilità per vedere domani che è sabato per vedere l'ultima notte di amore anzi l'ultima notte d'amore sapete che cos'è no non la voglio siamo sinceri pensare questo è il programma del cine village intanto l'ultima notte di amore può far sembrare ecco che ricordo esatto può dare un po questa incredibile accezione romantica e invece no amore un cognome in questo caso il cognome di di favino che interpreta quest'ispettore che all'ultima notte di servizio prima di andare in pensione ovviamente succederà di tutto proprio l'ultima notte quindi se volete un po di adrenalina il mio consiglio è questo qui piazza vittorio l'ultima notte di amore per quanto riguarda domani su piazza vittorio e quindi su quello che riguarda proprio il il cine village di piazza vittorio io consiglio lunedì di non perdervi lunedì 17 l'appuntamento con gallo cedrone bellissimo è attenzione è un caldo è un caldo e perché vi dico di non perdervelo perché un po perché sono nostalgico ormai lo sapete vi do anche dei consigli riguardanti proprio l'effetto nostalgie lo vedremo anche dopo un po perché ci sarà un incontro proprio con carlo verdone tra l'altro che in genere è presente spesso e volentieri nelle nelle varie nei vari appuntamenti dell'estate romana e soprattutto spesso e volentieri all'isola del cinema che ci manca quest'anno da dire che ci manca io ho controllato ancora non c'è niente magari ad agosto quest'anno ci sarà all'isola tiberina esatto un posto magico un posto magico e con cui ricordiamo non si può entrare con la macchina beh non pensavo a quel no perché una volta ci sono finito e quindi ero io una mia collega e ad un certo punto siamo ritrovati con la macchina e capisci questo è il vero motivo per cui pensare al sono finito e con la macchina sull'isola del cinema io ti odio Manuel perché tu mi fai ridere anche in diretta mi si smonta tutto quanto e quindi invece per restare a roma e per restare al centro vi ricordo che c'è il cinema in piazza questa iniziativa che coinvolge appunto diverse piazze e piazza san cosimato a trastevere è quella che ci piace di più per quanto riguarda domani se vogliamo un altro genere perché perché ci sarà uno dei miei film preferiti anzi qual è qual è si può dire uno dei due miei film preferiti perché sono due space jam due new legends quello del 2021 e è un film che io adoro certo non è come il primo tutti ci ricordiamo il primo mi ricordo proprio di averlo visto al cinema con mio fratello mio cugino e già all'epoca fu una rivoluzione cioè vedere i cartoni animati no interagire insieme al diciamo agli esseri umani e invece se avete voglia proprio di film d'animazione soprattutto avete voglia di film d'animazione cult vi suggerisco di passare questa sera oggi a piazza monte ciocci sempre per l'iniziativa cinema in piazza del di fondazione piccolo america perché c'è lì il vagabondo quello originale quello del 1955 questa sera monte ciocci mentre invece per domenica cult si ma di tutt'altro genere parliamo di rock e i suoi fratelli un film del 1960 diretto da lucchino visconti quindi anche loro riescono a spaziare tra i generi quindi queste arene lo ricordiamo questa è un'iniziativa assolutamente gratuita e queste arene servono anche un po per riscoprire dei cult per quanto riguarda invece gli ultimi giorni di viva il cinema che è l'iniziativa di cui abbiamo parlato sono gli ultimi giorni per quanto riguarda le proiezioni all'arena torbella monaca perché appunto saranno lì fino al 18 luglio e poi ci sposteremo verso altre verso verso altre arene con la stessa iniziativa appunto l'arena santa maria ci sono stato all'arena di torbella monaca tra l'altro molto carino durante l'inverno ho visto diversi spettacoli e devo dire a una programmazione molto molto bella sì e per quanto riguarda quest'arena noi lo sappiamo lo scorso weekend si era concentrata sulla comicità romana e invece questo weekend a quanto pare è l'animazione un po in tutte in tutte le arene è l'animazione a fare da padrona perché questa sera c'è gli incredibili una normale famiglia di supereroi quello del 2004 che è diretto da Brad Bird che è lo stesso di Rattatouille del gigante di ferro insomma una una garanzia mentre domani che sabato sabato 15 luglio c'è un film oscar io ve lo ricordo è un film oscar di un certo spessore perché ha vinto non solo un miglior film ma anche migliore regia e una serie di altri premi ed è la forma dell'acqua di gilielmo del toro del 2017 e poi la forma dell'acqua però non l'ho visto non l'ho visto no posso dire io l'ho visto al cinema com'è a me piace tanto no a me tantissimo attenzione perché alla gatto non è piaciuto vabbè però forse ho dato tante altre alternative infatti infatti credo che domenica approfitterò dell'altro consiglio che ci sta per infatti domenica un altro capolavoro un altro cult parliamo di non ci resta che piangere un film del 1984 che comunque ve lo dico è presente su netflix dovrei dirlo dopo al passaggio successivo a quello sui consigli se volete rimanere a casa però insomma come non non darvi la possibilità di recuperarlo questo esatto questa è la scena del fiorino ricordati che deve morire questo è chi si trova e inoltre per la settimana invece perché non ci sono proiezioni nel weekend ma ci sono proiezioni all'interno della settimana vi ricordo il cinema alle mura che in questo periodo sta proiettando alle mura aureliane che meraviglioso davvero quelle in via traccia insomma sta proiettando i suoi film però soltanto in settimana quindi date un'occhiata non è per il fine settimanuel ma sicuramente date un'occhiata per avanti per ci resta il piangere domenica lo rivedo molto volentieri grande schermo sotto le stelle e poi insomma roberto benigni devo dire che è un attore straordinario e troisi esatto anche troisi chiaramente è stato bello per esempio roberto benigni vedere anche un po l'evoluzione no se vogliamo dei suoi film e dei suoi personaggi insomma interessante bello ma giovanna se invece la frescura serale ci appassiona ma non troppo abbiamo voglia di andare comunque al cinema vi consiglio gli appuntamenti pomeridiani che il cinema appunto ci permette di avere così il pomeriggio non soffrite l'afa insomma nei cinema c'è l'aria condizionata state proprio in pace e vi consiglio di andarci prima del 20 luglio nonostante tutti voi volete andare il 20 luglio perché il 20 luglio succede succede lo stiamo aspettando tutti io sì il 20 luglio esce barbie oggi mi sono vestita anche tutti io mi consiglierò altri film ma tanto lo so che il 20 luglio saremo tutti ma è vero che è finita la vernice color rosa per girare questo film mi stanno dicendo così tante cose su questo film io così ho sentito anche gli slogan che vengono utilizzati leggi quello slogan non si trova più lei può leggere tutto ciò che vuole esatto lui è solo ken capite il livello che stiamo toccando con la promozione di questo film sono veramente veramente c'è tanta curiosità sui social vedo tanti post è un evento è davvero un evento stiamo per parlare di un personaggio si può dire importantissimo dell'epoca in realtà di un'epoca infinita perché barbie ha preso molte più generazioni non soltanto la nostra generazione poi ecco la cosa straordinaria è che nasce come un giocattolo no questa appunto barbie dedicata rivolta alle bambine e poi invece è diventato se vogliamo anche un vero e proprio modus essendi un'icona 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 non soltanto appunto di stile ma un incredibile modo per esprimere dei valori dei valori molto antichi ad oggi quindi anche carino immaginare quello che sarà il film esatto perché ho intravisto i trailer e sono molto interessanti sono molto particolari e molto ironici è un'icona di fare questa idea della donna bionda si ma in effetti poi ci sono stati anni in cui si dedicava la barbie ad un personaggio e poi come negli ultimi anni ci sono anche delle barbie più tra virgolette normalizzate tentano di combattere lo stereotipo che però ha reso famoso la stessa barbie quindi è incredibile io non vedo l'ora quindi sì lo so che volete andare tutti quanti al cinema il 20 però vi convincerò ad andare al cinema anche in questa settimana e se volete anche questo weekend perché vi ricordo innanzitutto che ci sono dei film meravigliosi ancora al cinema tra cui Elemental tra cui Ruby Gilliam la ragazza con i tentacoli quello di cui abbiamo parlato l'ultima volta sul rovesciamento tra cattivo e buono e quindi la sirenetta rossa perfetta diventa la cattiva io sono molto curiosa credo che ci andrò infatti domani perché non sono ancora andata a vederlo c'è anche ancora Flash insomma trovate ancora diversi capolavori al cinema ma soprattutto se vi piace il thriller è uscito Double Soul un film particolare un film particolare per esempio non è il mio genere ma vi farà stare davvero sulle spine tutto il tempo c'è una tensione, una tensione narrativa ma anche stilisticamente è un thriller davvero ben fatto quindi se siete amanti delle emozioni forti io ve lo consiglio mentre invece vi consiglio Come pecore in mezzo ai lupi se avete voglia di un bel film italiano è un film che tra l'altro vi permette di accedere a dei biglietti omaggio potete informarvi ovviamente sul sito di Movie Player digitando Come pecore in mezzo ai lupi biglietti omaggio e vedrete anche una serie di particolarità su questo film per esempio Isabella Ragonese che sostiene di aver dovuto sfidare se stessa per questa parte è una parte molto particolare la storia è inerente a una piccola tragedia familiare ai confini tra la morale e la legalità una storia molto particolare che vi suggerisco di vedere anche perché ci sono i biglietti omaggio quindi bisogna ascoltarli ovviamente c'è il mio consiglio leggero sentiamo il consiglio leggero per chi vuole andare al cinema ma vuole godersi una commedia o comunque farsi una risata abbiamo parlato di fidanzati in affitto la settimana scorsa e un sacco di persone mi hanno ringraziato mi hanno scritto in privato mi hanno detto meno male che ce l'hai consigliato perché non ci attirava dal titolo invece c'è la Lorenz che è meravigliosa insomma è molto divertente ed è davvero andare lì senza alcuna pretesa perché è la tipica commedia degli assurdi invece in questo caso vi consiglio la commedia Rido perché ti amo di Paolo Ruffini una commedia che ovviamente parla d'amore come si intuisce questa volta il titolo non inganna parla d'amore è molto molto simpatica c'è tra l'altro tra i protagonisti Nicola Nocella che è stato nominato prima dal nostro amico che è un pugliese io ho avuto modo di conoscerlo è venuto spesso anche in Accademia dove insomma mi sono formata io in Puglia l'Accademia del Cinema è pugliese ed ha fatto veramente un'incredibile scalata e poi è la grande Loretta Goggi un cast eccezionale ed è diretto proprio da Paolo Ruffini devo dire la verità è un bel film è un bel prodotto nonostante appunto sia la tipica commedia d'amore allora gli ingredienti li conosciamo o devi farla innamorare o devi farla rinnamorare è molto particolare però l'escamotage narrativo che è stato creato per godersi tutto il film è veramente interessante e anche originale quindi ve lo consiglio bene e in caso questa è la cosa che mi piace più la chicca proprio in caso di pioggia e malumori a te piace tanto questa parte la pioggia non ci sarà no più probabile il malumore va bene però la pioggia può essere anche dentro di noi ogni tanto la pioggia dentro di noi esatto può essere che abbiamo una nuvoletta dentro di noi non ci va di uscire è anche giusto goderci il weekend in casa soprattutto se abbiamo il ventilatore il ventilatore esatto e quindi in caso di pioggia e malumori io vi consiglio un prodotto da consumare durante il weekend in questo caso parliamo di due stagioni di una serie meravigliosa che si chiama Only Murders in the Building quindi solo omicidi nel palazzo solo omicidi nel palazzo non l'ho finita ma l'ho iniziata a vedere molto prima è molto divertente come potete vedere è un tipo di prodotto che può interessare un po' tutte le generazioni c'è una fantastica Selena Gomez che è l'idolo dei giovani perché insomma è stata una delle attrici più note di Disney Plus e comunque di Disney prima ancora che esistesse la piattaforma e poi invece ci sono due grandi comici che piacciono a noi e che piacciono anche ai nostri genitori Steve Martin per chi non riuscisse a ricollegare il volto al grande classico sì è quello di una pallottola spuntata quindi il comico l'attore comico che ci ha fatto impazzire con una pallottola spuntata e Martin Short che invece insomma ha fatto una serie di film noi degli anni 90 ce li ricordiamo bene ce li ricordiamo soprattutto per quelli su Santa Claus Santa Claus e tutti quegli altri pensate che questa commedia perché poi è una commedia questa serie è stata nominata sia ai Golden Globe che agli Emmy e Martin Short è stato nominato proprio come miglior attore all'interno di una commedia o di una di una serie insomma commedia o musicale e quindi insomma è un prodotto molto interessante da vedere da vedere molto interessante pensate è uscito purtroppo nell'estate del 2021 e quindi noi eravamo impegnati a goderci la prima estate senza restrizioni dobbiamo apprezzarlo soltanto adesso e ora che ne abbiamo il tempo e possiamo scegliere dobbiamo farlo dobbiamo farlo Giovanna grazie davvero per essere stata con noi grazie a voi grazie Giovanna Del Vino Movie Player la prossima settimana ci vediamo in collegamento dal grande festival giusto da quale? dal Giffoni Film Festival sarò in collegamento la prossima settimana e la settimana successiva perché appunto lo seguiamo tutto con Movie Player faremo dei collegamenti infatti speciali per i festival e dintorni infatti parleremo anche insomma di altri festival come avete fatto voi anche oggi ti seguiremo ci collegheremo grazie Giovanna vi consiglieremo anche festival grazie ancora Giovanna Del Vino Movie Player grazie grazie mille sei mai stata a Hollywood? eh sì magari ma la foto con la scritta ce l'hai? ma no che non ce l'ho ma lo sai che compie cent'anni? ma che stai a dire? guarda grazie mille 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 E dalla promozione del cinema Passiamo invece adesso a quella del teatro Perché c'è un appuntamento per il prossimo Marte di 18 al Teatro Marconi Ma capiamone di più Con il prossimo ospite Antonello Vallone, attore e regista Benvenuto Antonello Grazie, grazie Vi devo fare subito un complimento Perché credo che sia rarissimo vedere Dei giovani preparati Che parlano italiano Ma neanche in Rai Neanche in Rai si parla così bene Grazie mille Con Marzullo è impossibile per esempio Antonello Martedì 18 Teatro Marconi L'eroina del jazz Una pazzia che è arrivata All'improvviso da Un mattacchione che ha scritto Si chiama Francesco Ferrazzoli Che ha scritto questo testo Molto particolare Che mi ha affascinato L'ho un po' riadattato Perché tratta un pezzo di storia Sì americana Ma che c'è anche molto vicina Perché riguarda il jazz Che cos'è questa eroina del jazz? Beh nel titolo c'è un doppio significato In quel momento Ovviamente l'eroina Si vendeva e si consumava Con grande desiderio Specialmente nell'ambiente musicale Va bene E c'era poi una persona Molto particolare Una baronessa Figlia del famoso banchiere ebreo Roshild Che si era innamorata Del jazz Ma diciamo in particolare Lei aveva sentito una canzone Che si chiama Round Midnight Di Theolonius Monk E era impazzita per questa canzone E voleva incontrare Theolonius Monk Lei abitava a Parigi Era andata a New York A trovare un'amica Insomma brevemente Riesce a ritrovare Questo Theolonius Monk A Parigi In un concerto Due anni dopo Si innamora talmente Di questa canzone Che decide Di trasferirsi a New York E quindi sta presso A Theolonius Monk A Miles Davis A Charlie Parker A Tatum E tutti gli altri E che cosa li fa? Li prende Li coccola Cioè li segue Li tiene spesso a casa loro Spesso gli va A spignorare Gli strumenti Che loro Andavano a impegnare Per comprarsi La droga E quindi In un arco di tempo Molto molto lungo Dà tutto A questi A questi musicisti E è stato un momento Molto importante Perché li ha sostenuti Anche economicamente Era ricca Non aveva problemi Tra l'altro La particolarità Andavano tutti a casa sua E quindi a mangiare Stare lì Dormire Sbattuti qua E là E poi in particolare È che lei aveva A casa Praticamente era Una suite Credo Di un albergo Ovviamente Sì Sulla baia Di Hudson Credo E ci sono delle foto Per cui Lei aveva A casa Cento Centocinquanta Gatti Randaggi C'è una foto Su internet C'è un tappeto enorme Piano di pezzettini Di carne Molto messi bene Carini Tutti i gatti Che li mangiavano E quindi C'è anche questo paragone Tra i gatti Randaggi Che lei prendeva E i musicisti Randaggi Che lei Aveva recuperato Quindi Che cosa succede In questa storia Beh si racconta Veramente Che cosa è successo In quel momento Si parla di Ovviamente Problemi razziali C'erano problemi Molto grossi Per esempio Un musicista bianco Non poteva suonare In un gruppo di neri E viceversa C'era uno Di cui adesso Barclay Mi pare Che era Creolo Per cui Se suonava Con i neri Lo cacciavano via Se suonava Con i bianchi Lo cacciavano via Lo stesso E quindi Noi ci ridiamo Ma insomma C'è questo escursus In cui si parla Della vita Di lei Che stava dietro E di questi musicisti Di tutte le pazzie Che hanno fatto Insieme Io ho un trio jazz Molto Esatto Non è Bello Lungo Lungo No io credo Che la misura massima Sia un'ora e mezza 90 minuti Il mio ne dura 70 al massimo Perché Perché poi ci si stanca È vero È vero Ci si stanca E cala l'attenzione Va a pagento La verità È una cosa Che proviamo tutti La fruibilità È impossibile Però annoiarsi Con anche la musica dal vivo La sua interpretazione Regista E interprete E anche la musica dal vivo Che essendo jazz Ovviamente Certo Rimane a quel ritmo Beh io ho fatto in modo Che ci fosse una regia Molto Molto agile Che si passasse Da una cosa all'altra Poi tra l'altro I musicisti Non è che suonano Tra un monologo E l'altro Spesso Sono Mi fanno da tappetino Risaltano Simone Alessandrina Sassofani Andrea Saffirio Al piano Ippolito Pingitore Batterie e percussioni Sono molto bravi Non lo dico Perché qui fanno questo lavoro Perché vedete L'altra differenza Io la prima volta Sono andato a provare Con i musicisti Ci avevo messo Due e mezza Perché Senti Vorrei fare quella canzone Ah sì Ragazzi Un due tre quattro Vabbè Senti ma quell'altra Round Midland La sapete Ah sì Aspetta Cinque secondi Pa 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 Con gli attori Oh Perché quelli studiano I ballerini I musicisti Studiano Invece gli attori S'alzano Delle persone Si alzano la mattina E dice Ma sai che c'è Io faccio l'attore Io faccio l'attore E non c'è nessuna preparazione Di nessuna natura Tra l'altro Hanno anche ragione Perché scusate Succede per tanti mestieri Succede 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 per tanti mestieri Allora La Lucandina Facciamola rivedere Martedì 18 Teatro Marconi Tra l'altro si raggiunge facilmente Sia con la macchina C'è un bellissimo parcheggio Oppure con i mezzi Veramente C'è anche da Da margiare Interno Interno Perché Preferisco C'è pure l'aria condizionata C'è la musica La musica ha bisogno Del giusto spazio Sì perché poi Si diffonde in maniera particolare Non si gode più La musica ha bisogno Del chiuso Antonello Avallone Avallone Certo Insomma È stato un vero piacere Conoscerti Grazie a voi Breve ma intenso L'eroino del genzo Ci vediamo martedì Martedì 18 Certo E poi quando vuoi Ci vieni a trovare Ma tanto volentieri Abbiamo tante cose Abbiamo ancora da dirci Grazie Grazie a voi Complimenti Veramente Per come siete compiti Preparati E italiani Grazie Ci hai fatto un bel regalo Per questo weekend Grazie 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 Noi ci fermiamo Per qualche minutino Di pubblicità Dopodiché però Non cambiate canale Perché arriva L'oroscopo Le stelle Di Paola Aspri A tutto Ciao Ciao Ma figurati Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti